Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Nell'hotspot sono circa 800 le persone ospitate nelle ultime 72 ore e così dopo l'arrivo delle 294 persone che erano a bordo dell'Ocean Viking e dopo le 85 persone scese a Lampedusa dalla nuova nave dell'ONGC Watch, l'Aurora, arriva dal governo lo stop delle navi quarantena visto il superamento della data del 31 maggio, ultima data di proroga per l'emergenza covid. Nel frattempo il governo preannuncia un secondo decreto flussi dopo quello di dicembre.